Buongiorno, sono Kazuo Inomaru, co-fondatore di Ethic Intent. Sono da sempre un docente universitario e un consulente organizzativo. Con la collega Minoretti svilupperemo per Max un programma di etica sociale. Molte aziende in tutto il mondo perseguono sia il profitto che l'etica nella consapevolezza che a lungo termine gli esilutati saranno migliori perché si crea uno stato ideale di coinvolgimento, motivazione e soddisfazione per tutti. Per sviluppare queste tematiche utilizzeremo casi italiani, giapponesi e internazionali con approfondimenti per creare una visione etica su come le aziende possano affrontare le sfide della globalizzazione, costruendo una reputazione riconosciuta. Utilizzeremo le teorie di Polany, Nonaka, Sakamoto ed altri, sia sul knowledge management che sull'approccio integrato, per acquisire sensibilità etica nel selezionare progetti di innovazione tecnologica e strategici. Lavoreremo insieme per trasformare la competenza tecnica in eccellenza manageriale. Grazie 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 a tutti